Parole di vita La nostra speranza è un paio spensato La nostra certezza, l'amore di Dio In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione insegnava nelle loro sinagope e gli rendevano lode Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere Parole di vita Abbiamo ascoltato In gesti d'amore Vedendo tra noi la nostra speranza Un paio spensato La nostra certezza L'amore di Dio Mi fu dato il rotolo del profeta Isaia Apri il rotolo e trovo il passo dove era scritto Lo Spirito del Signore è sopra di me Per questo mi ha consacrato con l'unzione E mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio A proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista A rimettere in libertà gli oppressi A proclamare l'anno di grazia del Signore Amore di vita Abbiamo ascoltato E gesti d'amore Vedendo tra noi la nostra speranza E un buono sensato La nostra certezza L'amore di Dio Riavvolse il rotolo Lo riconsegna all'inserviante E si dette Nella sinagoga Gli occhi di tutti erano fessi su di lui Allora cominciò a dire loro Oggi Si è compiuta questa scrittura Che voi avete ascoltato A proclamare l'anno di grazia del Signore Nei tempi di grazia del Signore La nostra speranza E un buono sensato La nostra certezza L'anno di grazia del Signore L'anno di grazia del Signore L'anno di grazia del Signore